Una delle conseguenze della guerra fu che la città, una delle principali fonti di rifornimento dell'abbazia per commercio e novizi, fu distrutta. Ciò che l'aveva resa grande era andato in rovina e la gente se n'era andata lasciando la città deserta. Per far rifiorire l'abbazia dobbiamo aiutare a ricostruire la città e ripristinare il suo stato precedente. Perfino mio Lord. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.